Salve a tutti, sono Giampaolo Delirocioli, responsabile tecnico bovini di Livis Italia. Il soddisfacimento dei fabbisogni di oligominerali nei ristalli è fondamentale per l'immunità, soprattutto all'arrivo degli animali in allevamento. Il trasporto su lunghe distanze determina stress con aumento dell'escrezione renale di oligoelementi e conseguenti stati carenziali che possono causare risposte vaccinali ritardato insufficienti e possono indebolire la risposta immunitaria nei confronti delle malattie respiratorie tipiche di questo periodo. È ampiamente documentato che la supplementazione di oligoelementi iniettabili in ristalli all'arrivo aumenta le riserve corporee e i livelli nel sangue, fornendo oligominerali essenziali per l'immunità e per l'accrescimento nelle fasi successive all'arrivo. Non lasciare che le carenze di oligoelementi iniettabili impattino negativamente sull'immunocompetenza dei tuoi ristalli. Chiedi al tuo veterinario su come gli oligoelementi iniettabili possono aiutarti a migliorare l'immunità dei tuoi animali.